Eccolo Bene ragazzi, allora come stiamo vedendo iniziamo il corteo della confraternita di San Nicola Grazie, ci hanno salutato una banda per fortuna Lo ricambio volentieri Ma guardate come effetto delle piume, come si muovono Guardate che bello però Ah un bel effetto però Beh, dobbiamo solo sprecherare in Dio che è il tempo della Mandibuona Nel frattempo tutta la banda passa qui Facciamo vedere la prima parte di un dato E' un po' già qua E' un po' già qua Adesso mi pre... forse lo devo alzare? Nel frattempo un'inquadratura sulla croce Tutta la privazione della croce Ah ecco i miei caroni, eccoli Quando nel frattempo si sta scatenando un vento Ma lo fai con una freschetta La banda se ne va subito Allora no, lo portano così Ehi, peccato, nooo Eh madre, ho disperzato dal vento Eh madre, ho disperzato dal vento Eh madre, ho disperzato dal vento Eh, ecco Eh, ecco Ecco la croce Questa è tutta preparazione ragazzi Godetemela Non ancora Non ancora Non ancora Tutte le console, le macchie Ed ecco voi con fratelli Eccolo Eccolo Ed ecco la capata Dai su Che lo fai di colore? Mamma mia, si sente Beh Purtroppo deve continuare così Perché è un po' spezzato dal vento tutto Beh, continuiamo in questo momento Della processione E cominciamo il corso di questa festa patronale Partiamo dal 3 maggio Le due cruci E non ancora Ed ecco il baldacchino Vabbè, capanna Tutto il suo splendore Scusate l'errore Un po' sferzato dal vento Eccolo Bene, adesso piano piano Ci incamminiamo E andiamo al luogo Dello sbarco Per assistere Allo sbarco Della croce di colonna Ecco, hanno alzato il palio Eccolo Lì hanno alzato il palio Bene, ragazzi Non perdiamoci in chiacchere Andiamo Bene, ci vedremo Al porto Trasportiamoci Bene, ragazzi Ecco Lo spettacolo piroteco L'alleluia di Ander Vediamo di quanto Per vedere Eh, sennò Si copre tutto dal muro Si copre Ecco qua Spettacolo Colangelo Fireworks Buona croce di colonna Buona croce di colonna a tutti 1480 sbarca a trame Good i passe Que spettacolo Coro Per mo' Per mo' Per mo' Alleluia, l'Italia! Forza Italia! Alleluia, l'Italia! Alleluia, l'Italia! Alleluia, l'Italia! Alleluia! Alleluia, l'Italia! 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 Eccolo, eccolo! Alleluia, l'Italia! Alleluia, l'Italia! Eccolo qua, eccolo qua, il crocifisso quest'anno è imbarcato e sbarcato, vai! Sotto questo sole, perché? Vado, passa subito. La piazzetta. La piazzetta. Poi la prossima, appena finisce la banda, stop! Ok, a fra poco, ecco, procede a camminare la processione, dai! Come potete vedere il palio qui e procediamo a inquadrare il crocifisso in tutto il suo splendore. Bene! Procediamo a camminare! Eccolo! Eccolo! Vai! Bene! Bene! Buon 3 maggio a tutti i tranesi, ragazzi! Adesso ci vediamo alla prossima via di ripresa! Aspetta! Bene ragazzi, allora, siamo tornati, siamo sul porto, assistiamo alla processione del crocifisso di Colonna. Ecco il palio! Iniziamo a testa della processione, il palio di San Nicola. Segue. Associazione Femminile della Dolorata. Un po' una ripresa in lontananza. E' il crocifisso che divide la confraternita di San Nicola. Ecco qua, con sorelle, preghiamo il Dio nel frattempo che il tempo aiuti questa processione, dai! che per il momento sta procedendo bene. Ecco un bambino che si vende il palloncino. Ecco tutto il gruppo dei chirichetti. Quest'anno avrà luogo, ospite della croce di Colonna, rotta verso la chiesa della Madonna del Pozzo, dove rimarre esposto fino al 9 maggio. I festeggiamenti continuano, poi proseguiranno con la via Lucis nel giorno 9 maggio. Tira di nuovo quel di Citrocco. Andiamo alle riprese, dai! Godetevi il video! Per passaggio! Ecco il crocifisso qui! tutto il comitato feste patronale. Compagnia delle autorizzazioni. Unità Civile e Militari. Città di Trani. 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 Bene, ci vediamo ora alla prossima ripresa. Bene, ragazzi, cambio di ripresa. Siamo dalla girata di Pia San Giorgio e via Mario Pagani. Arriviamo. Ecco il patio. Adesso vediamo una ripresa più decente. Ecco come lo abbassano a me davanti a me. Vai! Abbassatelo piano piano. Un'associazione. Vabbè, è inutile che lo dico perché l'avete già appassato. Non mi ricordo. Ah, è vero. La croce di San Giorgio. Quest'anno è una processione più abbastanza corta leggermente perché non abbiamo confraternite. Beh, procediamo a vedere il resto della processione. Potete vedere questa. Questa. Giusto, giusto, ora esce il sole, dai. La croce di San Giorgio. Questa è un'altra gioca. Vediamo il resto. Vabbè, questa è un'altra망ca. L'abbiamo. A presto. Questa è un'altra gioca. Questa è un'altra gioca. Questa è un'altra gioca, inizia, la città Grazie a tutti. 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 Andiamo, nel frattempo cominciate a mettere tanti mi piace, diamo supporto alla processione che arriva. Senza suonare le campane però. Ok. Senza suonare le campane però. Entra. ... Allo? Allo? Allo?